Diciamo l'uomo primo del secondo creatore. Questo secondo uomo primo, che si trova senza parte animica, ha creato i suoi alieni, li ha dovuti creare senza corpo, perché fin là il corpo non ci può stare, perché non c'è il tempo, e quindi non c'è questa tridimensionalità che abbiamo qui, per cui queste macchine che sono il contenuto da una parte di l'horus, da un'altra parte del biondo a 6 dita, lui esso di plastica, l'horus, una vera e propria razza, tanto è vero che dentro il sedica abbiamo chiamato ringhio e dentro l'horus abbiamo chiamato rapi, per ricordare un po' le antiche divinità egiziane, alle quali il contenitore assomiglia, abbiamo dato i nomi diversi, in realtà quando si va a cercare di vedere cosa sono queste cose che stanno dentro i contenitori, sia di plastica, sia finti, sia trasse insidiosi mutualistica, vediamo solo macchie nere, e tra una macchia nere e l'altra macchia nera noi non siamo più in grado di fare differenze, quanti ce ne saranno di macchia nere? Tantissime, e sono tutte l'archipineologia che ha fatto l'uomo primo del secondo creatore. La mia idea è che il secondo creatore abbia tentato di fare qualcosa come aveva fatto il primo creatore, ha tentato di costruire un suo uomo primo, a questo livello qualcosa gli è andata male, o la parte animica più furia è scappata, o c'è stato un errore. primo e secondo creatore, tutti hanno interessi per tutte le anime, quindi quando io mi sono liberato dall'uomo primo, e il secondo creatore ha buon gioco, e lui riesce con un trucco ad entrare in qualche modo, e la parte animica non riesce a bloccare. Per una ragione differente, la ragione dell'uomo primo è che non riesco a bloccarlo perché aveva la stessa anima, quindi non c'è una separazione tra me e l'uomo primo. L'uomo primo è uno dei tanti miei contenitori, il primo contenitore in assoluto che ho avuto. Stacco quello perché riesco a farlo con una tecnica particolare e l'uomo primo è staccato. Ma come stacco l'alieno che deriva dal secondo creatore? Diciamo, l'uomo primo del secondo creatore, quella cosa che io ho segnato in Genesi con il punto interrogativo. E lo stacco male. Perché? Perché mi entra dentro le mie barriere che sono barriere atemporali. Dovete capire questo. Per esempio, nella Flash Simulation, nella simulazione mentale Flash, quando noi facciamo passare a un certo punto, nel primo modulo, il soggetto, nella sua simulazione mentale, dentro lo specchio, al di là dello specchio, lo specchio non solo ha una caratteristica idelica e simbolica, ma è realmente la rappresentazione della separazione tra il di qua e il di là, dove il di là ha una caratteristica fondamentale, è totalmente atemporale. Questo per diversi motivi. Primo, la parte animica a volte te lo dice. Di là c'è il tempo, di qua no. Secondo, di là c'è buio. Certo che c'è buio, i fotoni non si possono muovere. E se non si muovono i fotoni, perché non c'è lo spazio e il tempo, soprattutto non c'è il tempo, c'è buio. E lo specchio è proprio questo. Lo specchio è una barriera su cui i fotoni rimbalzano e tornano indietro. Non possono, non può la luce e i fotoni andare di là, perché di là non c'è il tempo, quindi la geometria del fotone come particella elementare e la sua geometria non permette ideicamente e quindi realmente di andare di là. Quindi di là, quando si va di là, si passa lo specchio, di là non c'è il tempo. Ebbene, questa struttura permette al secondo creatore, e alle creature del secondo creatore soprattutto, di poter entrare, perché loro non hanno tempo. Cosa dice Rindio in una famosa, cioè il parassita, senza corpo, che abitava, abita dentro alcuni dei nostri adotti, collegato via radio, praticamente via radio con i nostri adotti, dice da noi il tempo va in tutte le direzioni. Questo ideicamente vuol dire che non va da nessuna parte. Questo vuol dire che il tempo non c'è. Per questo Rindio in un'altra ipnosi dice da noi non esiste la luce, c'è il buio, perché non ci sono i fotoni. È tutto diverso. Per questo Rindio appare ideicamente come una macchia bidimensionale nera. E allora il fatto di non avere tempo, e il fatto che quello è un luogo senza tempo, vuol dire che non presenta nessuna barriera nei confronti del secondo creatore e di tutta la stirpe che viene dal secondo creatore. Perché di là il tempo non c'è. Quando io ho uno davanti a me che mi parla e mi dice delle cose, in realtà quello che succede, anche se è fantascienza pura, è che io ho avuto bisogno di crearmi quella situazione, quella situation comedy per cui uno è venuto da me e mi ha detto delle cose. Perché attraverso le cose che mi dice io faccio l'esperienza che quel giorno mi sono prefissato di fare. Passo attraverso l'esperienza del virtuale e l'altro che è uno specchio di me, in cui io mi sono specchiato, mi ha fatto comprendere quel particolare di me che io non sapevo. esempio, se uno mi dice di me qualcosa di cattivo, tra virgolette, perché il cattivo non esiste, se all'inizio io pensavo quello è uno stronzo, oggi penso dentro di me c'è qualcosa che non va. Ecco dove il paradigma cambia, il fuori e il dentro si sono rovesciati completamente. Perché c'è qualcosa di me che non va? Perché io ho comunicato a lui il mio stato di disagio che lui inconsciamente ha preso e lo rivolta contro di me e in qualche modo quindi il suo rivoltarlo contro di me mi fa capire. In parole povere, per concludere, io cerco di fare delle cose veloci, però mi rendo conto che le cose sono complicate. Per concludere, questa cosa qui mi fa capire come si sbagliava all'inizio nel credere che l'alieno fosse un nemico. L'alieno è uno stronzo che ti viene a prendere l'anima. Brutto stronzo. Poi, a metà del mio percorso, l'alieno era un altro, il quale non era né buono né cattivo. Avevamo abbattuto la dualità. Ma era solo uno che si faceva i cazzi suoi. E ovviamente, dal suo punto di vista, lui era il buono e noi eravamo i cattivi. Ma dal punto di vista nostro ovviamente era diverso. Quindi l'universo ancora visto in modo duale. Terzo punto. L'alieno è qualcuno che ti sta specchiando. Cioè, tu hai costruito la realtà virtuale in cui l'alieno viene e ti rompe le palle, perché quel romperti le palle ti serve a te per passare attraverso l'esperienza dell'alieno e per comprendere qualcosa che tu devi comprendere. Cosa? Cazzo, che sei anima, mente e spirito, cioè che sei coscienza, che sei Dio senza l'alieno? Lo capirai fra un miliardo di anni, magari. Invece con l'alieno ci passi nel mezzo, Cristo, lo capisci subito. E analogosly, analogamente, a cosa serve? Cosa servi te all'alieno? Perché l'alieno si specchia in te, ma te ti specchi nell'alieno. L'alieno vede te e vede attraverso di te il suo problema irrisolto. Cioè, tu rappresenti di fronte a lui quello che lui vorrebbe essere e che non sarà mai, a meno che non decida di scegliere un altro percorso coscienziale. Nell'istante in cui tu comprendi che l'alieno ti ha fatto capire chi sei, nello stesso istante lui comprende il tuo punto di vista. Perché siccome non esiste il tempo, i due istanti di comprensione saranno lo stesso problema. Lo ridico in un altro modo. Nell'istante in cui tu comprendi che sei coscienza pura e che tu hai permesso all'alieno di venirti a prendere per farti comprendere questo, lui capisce che deve cambiare sistema, che non può venire a prenderti, perché non ti prenderà mai, perché non si ruba l'esperienza coscienziale a un altro. Si fa l'esperienza ognuno per se stessi. Quello è il problema. Quindi quando te vinci e l'alieno non viene più, in qualche modo hai aiutato anche l'alieno a comprendere. Questo era il terzo step, praticamente, in cui sostanzialmente noi non diciamo altro che ti è toccato l'alieno. Ti è toccato perché l'hai voluto te. Perché lui viene e mi prende sto stronzo? Perché l'hai voluto te. Ecco, il paradigma è cambiato completamente. E va a andare iniziò. Per altre volte a tutti. Questa. Questa. Questa.